Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, come state? Tutto bene? Spero di sì. Allora, oggi abbiamo tre tematiche particolari da affrontare, cioè la carta segreta che ha citato Tutto Sport in prima pagina nell'edizione odierna, la trattativa legata a McKennie e l'indiscrezione legata a Kuluseschi di ieri sera di Gazzetta in un articolo scritto dal buon Giovanni Albanese. Un saluto a Giovanni che ci segue sempre. Allora, partiamo dalla carta segreta, perché? Perché Tutto Sport oggi dice c'è una carta segreta di marzo 2021 che potrebbe invalidare tutto il progetto e che non è stata inserita all'interno delle discussioni, non è stata inserita all'interno appunto del processo. Ora, io non ho idea di cosa possa fare, dire, esserci iscritto su questa carta segreta, non ho approfondito, se ci saranno riscontri vedremo. Più che altro volevo far passare un messaggio che secondo me è molto, molto importante, perché secondo me non c'è da augurarsi che questa carta segreta possa far saltare il processo. Cioè non è questo, secondo me, l'augurio che deve fare un tifoso juventino. Il tifoso juventino in questo momento deve sperare che la Juventus risulti pulita al di là di questa carta segreta. Deve sperare che i propri avvocati riescano a dimostrare che tutte le operazioni fatte da Juventus sono state lecite. Quindi non c'è la volontà di farsi togliere i punti, sempre secondo la mia visione, secondo quanto mi riguarda. C'è la volontà di dimostrare che Juve o non ha fatto niente di illegale o ha fatto sempre e solo operazioni che possono essere associate alle altre squadre, ai modi di operare degli altri. Questo secondo me è l'augurio di un tifoso juventino, perché non è tanto il punto di penalizzazione, io l'ho sempre detto, è la disparità di trattamento con cui siamo stati trattati. Perché sperare semplicemente che la carta possa annullare il processo è un po' associarsi alla linea di pensiero dell'accusa, cioè faccio tagli e cuci delle intercettazioni, prendo solo le parti che interessano a me per dimostrare che Juve è colpevole e quelle in cui si dimostra Juve innocente le mettiamo via. E allora cosa facciamo? Mettiamo le parti in cui facciamo vedere solo che siamo innocenti? Perché qua il fulcro del discorso sembra che Juventus sia colpevole solo perché ci sono le intercettazioni. Non perché le plusvalenze sono state fatte in quel modo. La plusvalenza che sia stata intercettata o non sia stata intercettata deve essere legale o non legale. E questo lo deve essere per tutte. Quotate in borsa o non quotate in borsa. Intercettate o non intercettate. Non può essere colpevole una squadra delle plusvalenze solo perché ci sono delle intercettazioni perché è quotata in borsa. Questa è follia, questa è disparità di trattamento, questo è veramente distruggere una competizione sportiva. Perché una competizione sportiva deve essere equa. Deve avere le stesse regole applicate a tutti. E in questo momento non è così. Questo che a me dà fastidio e secondo me questo è il ragionamento di fondo che deve fare il tifoso della Juventus. Sperare che la Juventus risulti innocente al pari di tutte le altre che sono risultati innocenti per i motivi X, Y e Z. Non perché c'è una carta che vada a annullare il processo e quindi scacco matto chinè. Per me non è questo. È dimostrare che veramente non c'entriamo niente o che abbiamo sempre fatto le cose come tutte le altre squadre, come tutte le altre organizzazioni, tutte le altre società. Perché non è che se uno sbaglia per le plus valenze fa lo stesso perché non si è intercettato. Questa è follia. E se si è intercettato? Mi dispiace, ti è ben intercettato e quindi ok. Questa è follia. E' inaugurarsi che tutte le squadre abbiano sempre operato nella legalità. Sempre. E non un'operazione, due operazioni, tre operazioni, quattro operazioni. Perché se è una cosa illegale una volta, è illegale due volte, è illegale tre volte, è illegale quattro volte. Questi sono principi che devono rimanere sempre riscolpiti nella pietra. Quindi vediamo come si evolve questa situazione, vediamo eventualmente cosa dirà se verrà fuori questa carta, se esisterà questa carta, se verrà giocata dagli avvocati della Juventus. Ma secondo me il ragionamento di fondo deve essere un altro. Poi che possa essere applicato tramite questa carta, magari un altro discorso. Ma ripeto, fare il tagli e cuci delle cose sempre solo più comode non è proprio, siccome è la soluzione migliore in assoluto. Ma questi sono discorsi probabilmente di un illuso. Perché capisco bene che invece non saranno queste, né dalla parte dell'accusa né dalla parte della difesa, le idee non saranno mossi secondo la volontà di... Saranno mossi soltanto per fare quello che conviene a una delle due parti. Però questa non è giustizia, allora. Non è giustizia. Perché la giustizia è dimostrare che una cosa è sbagliata e una cosa è giusta. Fine. Seguendo un regolamento. Questa dovrebbe essere la giustizia, non dei giri strani. Vabbè, vediamo che cosa accade. McKennie. McKennie-List, secondo Gianluca Di Marzio, si muove qualcosa. La richiesta della Juve è intorno ai 31 milioni di euro, ok? Invece il Leeds ne offre soltanto, anzi 35 milioni di euro, mentre il Leeds ne offre soltanto 28. Distanza che, sempre secondo Di Marzio, è colmabile da qualche bonus facilmente o difficilmente raggiungibile. La Juventus quindi sarebbe ben disposta ad aprire l'accessione di McKennie ai Leeds, che hanno già alcuni giocatori americani all'interno della Rosa e anche la proprietà è americana. Quindi si va a creare una sorta di colonia, McKennie va a ritrovare alcuni connazionali con cui ha già giocato il campionato del mondo, il mondiale in Qatar, proprio qualche mese fa. E quindi, se tutto si andrà a concretizzare, McKennie si sentirà anche abbastanza a casa. C'è da stare attenti, no? Poi, se sei McKennie, perché, permettetemi, una transfer market valuta al profilo di McKennie 21 milioni di euro. Già venderlo a 28 il rischio. Venderlo a 35. C'è caso che ci tocchi poi la serie C. Cioè, vendiamo McKennie 35 milioni, eh? Abbiamo già la guardia di finanza in sede. Permettetemi queste battute, ma il clima è troppo teso, troppo pesante. Quindi bisogna anche cercare di sdrammatizzare, alleggerire un po' tutta la situazione. Perché Kuluseski? Perché ieri sera ero a cena con Seekwolf, eravamo al sushi, io Seekwolf con Dispa e le fidanzate. E Seekwolf mi guarda e mi fa, ma questa? E guardo l'articolo di Giovanni e dico, Kuluseski può tornare alla Juve. Come? Allora, ce lo siamo letti ed effettivamente le motivazioni che dà Giovanni sono abbastanza lecite. E cioè, Kuluseski è in prestito al Tottenham, ha un obbligo di riscatto in caso di tot presenze che in questo momento non sono state raggiunte, sembrano ben lontane da quelli che sono i parametri per il riscatto automatico, e o la qualificazione del Tottenham alla prossima Champions League, anche in questo caso siamo abbastanza distanti. Quindi, giustamente, che cosa dice Giovanni Albanese? Con Conte, punto interrogativo, rimarrà, non rimarrà, chissà, chi non lo sa. Con Paratici, che sta vivendo anche lui dei momenti un po' così, e col Tottenham, che in questo momento non sarebbe nemmeno obbligato a versare alla Juventus questi 35 milioni di euro per il riscatto, ecco che effettivamente Kuluseski potrebbe rientrare clamorosamente alla Juventus. Dopo il prestito, sembrava subito l'impatto di Kuluseski essere stato decisivo, incredibile all'interno della Premier League, all'interno del Tottenham. L'anno scorso è titolare inamovibile, nell'ultima parte del campionato l'aveva fatta benissimo, gli ultimi sei mesi, dopo, da gennaio a giugno, era stato un giocatore quasi imprendibile. Già all'inizio di quest'anno, anche con l'inserimento di Richarlison, il Tottenham aveva virato su un attacco differente, e quindi con Son, Richarlison e Harry Kane, e in questo momento Kuluseski non è nemmeno vicino appunto a quella soglia di presenze che andrebbe a garantirgli la permanenza a Londra. E quindi potrebbe effettivamente davvero tornare. Poi probabilmente Kuluseski verrebbe reimmesso sul mercato da parte di Juventus perché non credo che Juve voglia trattenere comunque un giocatore che aveva già ceduto e un giocatore che comunque ha un buon mercato, perché probabilmente poi la stessa cifra, quindi intorno ai 40 milioni, la puoi comunque prendere da qualche club inglese, proprio perché, come stiamo dicendo, anche lo stesso McKennie, che è comunque due anni più vecchio rispetto a Kuluseski, e che forse ha dimostrato anche meno rispetto allo svedese, ha un mercato intorno ai 30 milioni di euro. Quindi probabilmente lo stesso Kuluseski potrebbe essere ceduto ad una cifra lì vicina. Quindi fatemi sapere intanto che cosa ne pensate del discorso legato alla carta segreta di tutto sport. Fatemi sapere se siete contenti, se siete intanto a favore o contro eventualmente la cessione di McKennie già in questa sessione invernale, anche perché poi bisognerà sostituirlo, tra virgolette, numericamente, perlomeno, perché secondo me la Juve non andrà su un centrocampista, quanto più su un esterno, che è comunque il ruolo che sta facendo McKennie in questo momento, e fatemi sapere anche cosa ne pensate nell'atto Kuluseski, perché io davvero ieri sera, quando ho letto l'articolo, ho avuto gli occhi fuori dalle orbite e ho detto Dio Giovanni, ma cosa stai scrivendo? Però effettivamente ragionandoci secondo quelli che sono i dettagli che avevamo anche comunque già affrontato, discusso all'interno dei video dell'anno scorso, proprio un anno fa, perché comunque questi sono i giorni in cui un anno fa Vlaovic si trasferisce proprio a Torino, da Firenze, e quindi vengano ceduti Bentancur e Kuluseski, viene acquistato anche Zaccaria, viene ceduto anche Ranse, non dimentichiamolo, quindi siamo davvero in quella finestra temporale un anno dopo, e ricordo che l'anno scorso invece si diceva Kuluseski, vedete cosa ci siamo persi, guardate lì il Tottenham valorizzato, io dico sempre base biennale per valutare i giocatori, base biennale, perché un anno può andare male, un anno si può essere sfortunati, un anno si può essere non adeguati, non pronti, non valorizzati, non in forma, ci sono mille variabili, almeno base biennale, poi si può davvero iniziare a ragionare, parlare sempre troppo in fretta probabilmente è un grande errore, che fa parte comunque della natura del tifoso, e in realtà, se proprio devo dire la verità, è bello anche così.